Con Small parliamo di un evento molto importante che si svolgerà ad agosto, Esplosione del Ritmo, che cos'è Small? Esplosione del Ritmo è un evento che abbiamo organizzato sempre di salsa e vacanza insieme, dove andiamo in ogni parte del paese, dell'Europa, dove stiamo il primo anno siamo stati in Spagna, il secondo anno siamo stati in Francia, in Costa Sur e quest'anno andiamo in Croacia. E' dal 27 al 30 d'agosto, dove partecipano l'Italia, la Spagna, la Croacia, la Slovenia, la Svizzera e anche tutte le parti della Croacia. Sempre siamo noi che facciamo le lezioni anche di artisti importanti. Bene, allora uniamo il divertimento al viaggio, alla vacanza. Alla vacanza. Oggi con noi abbiamo anche una rappresentante di Spagna che fa la bachata a love, che è Sandrita. Bene. Va bene, ecco, quindi abbiamo Sandrita. Ciao. Ciao. Lei è direttamente da Spagna, parla poco l'italiano, però lo capisce molto bene. E' la rappresentante di Spagna, la che ci dà una mano con tutta l'organizzazione in Spagna dell'Eplosione del Ritmo. Benissimo, vuoi aggiungere qualche cosa? No, parlo molto bene l'italiano. Alla Spagna lo traduziamo così. Che è un evento molto divertito, molto buono. È un evento molto buono, molto divertito. Io ho avuto il primo anno con loro e che vi animate tutti perché è una passata. È un evento divertente che dal primo anno lei sta con noi, le piace tanto, dovete venire. Dovete venire, vi aspettiamo tutti quanti. Esplosione del Ritmo 2015, Croassia. Grazie. 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 Grazie.